La licenza sia a DJ online è una delle domande che mi viene fatta più spesso e è arrivato il momento di parlarne nella maniera più neutra possibile perché poi l'intento è quello di dare tutti gli elementi perché ognuno decida come è meglio credere, se farla o no perché purtroppo non c'è una spiegazione univoca e non è qualcosa che si può dire a prescindere dal tipo di contesto e di situazione di cui si stia parlando bisogna valutare caso per caso facciamo comunque un resoconto fin dall'inizio per capire come è strutturata questa licenza sia a DJ online e quando può essere opportuno farlo e quando anche no intanto ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina Ritorniamo per un attimo all'inizio degli anni 2000 quando oltre alla diffusione dei dischi in vinile si affiancano i CD inizia a venire fuori l'esigenza di masterizzare la propria collezione di vinili per raccoglierli dentro compilation di CD i masterizzatori iniziano ad essere più efficienti, non ci vuole più due ore per masterizzare un'ora di musica e iniziano ad essere anche a buon mercato contemporaneamente in quello stesso periodo già da alcuni anni si stavano diffondendo gli mp3 e quindi la possibilità di scaricare musica da internet tutto questo ha generato tutta una serie di problemi e anche una forte ripensamento dell'intera industria musicale e la SIAE ci ha messo tanti anni per adeguarsi alla tecnologia che cambiava di conseguenza non era più così scontato che ci fosse soltanto musica originale nelle serate e c'era la necessità di regolarizzare un po' l'utilizzo dei file mp3 ecco che è nata quindi la licenza SIAE DJ Online per l'utilizzo delle copie lavoro che significa? significa che si doveva apporre un'etichetta copia lavoro su quei CD che erano il risultato di una collezione di dischi in vinile o di mp3 scaricati il DJ, il performer, il musicista si faceva una copia della propria musica per poterla utilizzare durante le serate in modo che se il CD si sciupava o veniva perso o rubato comunque aveva a disposizione l'originale per rifare altre copie e poter utilizzare la stessa musica che aveva acquistato o scaricato regolarmente diamo quindi per scontato che l'utilizzo di mp3 scaricati illegalmente non sia consentito e non si possa in nessun modo regolarizzare negli anni sono sorte alcune controversie perché per esempio si è sviluppato molto l'utilizzo della musica tramite supporti USB, chiavette eccetera sempre più si è diffuso il download di musica sia acquistata che scaricata gratuitamente e allora questa esigenza delle copie lavoro è quantomeno secondaria rispetto all'esigenza di poter utilizzare musica acquistata e allora se io suono la musica dal mio computer come funziona? e qui c'è una grossa controversia perché SIAE sostiene che la licenza DJ Online serva anche per quei tipi di file che quindi debbono essere regolarizzati e inseriti in una lista ogni volta che acquisti un brano aggiorni la tua lista nel quale te puoi aggiungere brani ma non puoi toglierli almeno fino al rinnovo per capirsi si parla di 200 euro l'anno più IVA per una collezione di fino a 2000 brani altrimenti il prezzo aumenta di conseguenza ogni volta che acquisti i brani che ti porti con te nelle serate li aggiungi fino al raggiungimento di questa cifra massima e poi puoi rivedere la lista l'anno successivo nel tempo però è successo che tanti che svolgevano le serate mettendo la musica dal proprio computer non ritenessero di dover fare la licenza SIAE in quanto non facevano delle copie dei propri brani ma semplicemente riproducevano i brani che avevano acquistato dallo stesso supporto un po' come acquistare un cd originale o un vinile ci sono state delle contestazioni ci sono state tutta una serie di cause molto spesso vinte dalla persona che ha suonato la propria musica senza fare la licenza DJ online ecco che per un periodo storico abbastanza lungo la SIAE ha smesso di calcare la mano sulla licenza DJ online perché le solite cose all'italiana fai la legge, trovi l'inganno la legge è fatta male non è chiara, non è comprensibile ci sono delle opposizioni non si sa bene come stanno le cose ognuno sostiene la propria posizione ci sono sentenze che dicono che non trattandosi di copie lavoro non è necessaria la licenza DJ online non è in questo caso consigliato fare la DJ online o quantomeno potrebbe non esserlo di contro però se devi spendere 2 o 3 mila euro di avvocato per vincere una causa nella quale sì ok ti viene contestato una multa enorme però forse conviene fare la DJ online perché ti costa comunque quelle 200 euro l'anno c'è un ulteriore problema la licenza DJ online non ti tutela e non garantisce il fatto che quella musica che ti suoni sia originale tradotto alla guardia di finanza o ai carabinieri della licenza DJ online non gliene frega niente è capitato a molti colleghi che gli venisse sequestrato il computer o le chiavette o il book di cd masterizzati e nonostante si presentasse la licenza DJ online comunque gli enti controllori dovevano verificare gli acquisti dei brani quindi le fatture degli mp3 quindi la provenienza dei brani quindi il contenuto dei cd o degli archivi perché non è che la licenza DJ online attesta che quei brani sono quelli lì provenienti da quell'acquisto lì o comunque che la lista dei brani nella licenza sia effettivamente quello che hai a disposizione durante una serata che sia quello che c'è nella chiavetta o nel cd e allora praticamente non ti serve per dimostrare che hai solo musica originale e quindi non hai a disposizione musica contraffatta ecco che i colleghi che hanno fatto per anni la licenza DJ online quando sono trovati a doversi giustificare magari a dover rinunciare alla propria strumentazione per alcuni giorni se non altro se non anche settimane ecco che allora dico ma cosa la faccio a fare la licenza DJ online? e siamo alle solite quando abbiamo enti che tra loro non si parlano che ognuno fa la propria strada non c'è nessun tipo di comunicazione poi anche la CIA stessa ha smesso di dialogare con le associazioni di categoria per esempio io ero iscritto ad Asso DJ non c'è più la convenzione con Asso DJ per la licenza ecco che diventa veramente una scelta discutibile quella di fare la licenza cosa posso dire? dipende ovviamente dalla mole di serate dalla mole di musica da quello di cui è composto il tuo catalogo perché se utilizzi ancora i cd molto probabilmente puoi rinunciare ai cd masterizzati è anche vero che però se suoni i tuoi promo dovresti in qualche modo utilizzare dei supporti non originali però quelli sono comunque al di fuori della licenza perché non sono copie lavoro non sono brani acquistati ma sono semplicemente il lavoro della tua produzione viene messo su un supporto e lì come si comporta la CIA? è un'altra bella controversa che ancora non è stata risolta nonostante tutti questi anni nonostante il mondo sia andato avanti nonostante la tecnologia sia andata avanti nonostante le procedure di esercizio della serata siano comunque molto diverse da dieci anni fa ci sono tutte queste questioni insanate che rendono la scelta complicata e di conseguenza non ti so dare un mio giudizio non ti so dare un mio consiglio ti dico semplicemente che così stanno le cose se hai dei commenti scrivi pure qua sotto se hai delle domande se hai delle esperienze da raccontare ognuno ha dei colleghi che hanno avuto una situazione di questo tipo è stata risolta in un modo e in un altro anche perché la giustizia non è che ragiona sempre allo stesso modo le agenzie della CIA non è che ragionano sempre allo stesso modo l'importante però e qui concludo è essere preparati essere a conoscenza di come stanno le cose quando ho subito io il controllo della licenza nel quale spiegavo perché in quel periodo non ne avessi bisogno sono riuscito a non avere nessun tipo di problema perché mi sono dimostrato all'ufficiale della CIAE competente e preparato di conseguenza non ha avuto intenzione di andare per le lunghe con magari l'eventualità di un ricorso o quant'altro perché mi ha visto che sapevo di cosa si stesse parlando e conoscevo molto profondamente l'argomento quindi ti direi anche se vuoi di approfondire sul canale della CIAE su altre associazioni di categoria se sei interessato all'argomento e magari puoi anche farmi qualche domanda per dei temi da sviluppare nei video successivi nel frattempo continua a seguirmi su Essere DJ Oggi